Ciao a tutti, a un periodo che stanno sponsorizzando un sito molto famoso di Cookie Policy Privacy GDPR sta sponsorizzando, che era bellissimo il video, molto spontaneo e c'era questo ragazzo che diceva praticamente se tu sposti almeno un sito all'interno della loro piattaforma per i Cookie Policy, per la privacy e tutto ti fornivano una somma di 500 euro allora il video parlava di questo ecco e niente, allora mi scrivo, mi contattano e nel frattempo e dato che non vengo contattata subito provo a vedere le varie domande che ci sono all'interno del loro sito e praticamente scopro che è tutt'altro cioè minimo devi portare 10 siti e allora comunicamelo nella pubblicità cioè non dirmelo dopo perché è una pubblicità ingannevole cioè non si fa, è brutto